Il 4-1 ottenuto nella partita contro il Monte Spaccato, che ha proposto una squadra in bella evidenza, soprattutto nel secondo tempo, pone le giuste premesse per la partita di Ponzacco. Il città di Castello vi arriva in buone condizioni di forma, testimoniate anche dal graduale rientro di alcuni giocatori. A Ponzacco non sarà un impegno facile, ma la consapevolezza di dover sempre lottare per ottenere punti sembra essere una prerogativa della squadra bianco-rossa. Giacomo Gorini parla dell'impegno di domenica in casa dei mobilieri. Sì, ci siamo preparati bene per affrontare al meglio questa partita. Sappiamo che è una partita difficile contro una squadra che ha solamente dei punti meno di noi. Anche loro vengono da due sconfitte, avranno voglia di rivalza e di provare a fare punti in casa loro. Però noi andiamo là con il solito spirito e cerchiamo di portare a casa almeno di fare il risultato. Questa settimana abbiamo recuperato qualche giocatore, quindi anche il mister ha possibilità di scegliere. Siamo contenti, ora aspettiamo Massai per affrontare l'ultimo spezzone di campionato con una rosa al completo che permette anche di allenarsi meglio e la domenica comunque avere delle alternative importanti.